Siamo in un lago magico, sono circa 48 ore di pesca, più di 20 partenze. Abbiamo fatto delle fotografie, abbiamo in qualche modo, tra virgolette, catalogato dei pesci, misurandoli, pesandoli per la riserva dei laghi. Abbiamo messo da parte un pesce per farvi vedere la particolarità di queste grandi carpe che ci sono qui dentro. Le catture medie sono andate tra i 8 kg fino a 17 kg. Abbiamo messo una sacca a vivo, praticamente, con un pesce di dimensioni discrete, un pesce intorno ai 16 kg. Guardate che bellissimo pesce! Non male, eh! Adesso proviamo a metterla su un magrassino e imbracciarla. Nervosa! Bella, eh! Questa sessione è stata una sessione veramente molto profigua. I pesci sono in una forma perfetta. Guardate che livrea! In questa sessione sono mancate le specchi, anche se la settimana scorsa siamo tornati sempre su questo spot. Abbiamo preso delle full scalde molto molto belle, con delle livree particolari. Guardate queste carpe, sono color oro, è una cosa incredibile. E poi la particolarità di questi pesci è che sono in una strepitosa forma fisica. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Ok! Che dire, adesso facciamo delle foto di rito con i miei amici Orlando e Stefano. Adesso rimetto un attimo la carpa in acqua. Con questi nuovi materassini sono veramente molto molto validi per mantenere il pesce in attesa delle foto. E' una materassina della Fox. Non male, eh? Questo è car fishing. Grazie a tutti! Buongiorno! Grazie a tutti.